Nel 1905 sorge, lungo la strada per Cremona, lo stabilimento della Società Italiana della Seta Artificiale. L'impianto pavese è tra i primi in Italia a produrre i filati di rayon viscosa. Nel 1917, su iniziativa di Riccardo Gualino e Giovanni Agnelli, nasce a Torino la SNIA, Società di Navigazione Italo-Americana, che inizialmente si occupa di commerci internazionali. Nel 1922 la SNIA, che nel frattempo è diventata Società Nazionale Industria e Applicazioni Viscosa, rileva lo stabilimento di Pavia. La SNIA diventa ben presto una delle fabbriche più importanti di Pavia per numero di lavoratori, produzione e impatto sociale. Nel 1925 la società acquista un terreno fuori Porta Garibaldi e inizia la costruzione di quello che diventerà il più esteso gruppo di case operaie della città. In questi anni lo stabilimento pavese è uno dei più importanti del gruppo SNIA, che da solo produce il 60% delle fibre artificiali italiane e il 10% di quelle mondiali. Durante gli anni 30 la SNIA viscosa incomincia la produzione del fiocco, un nuovo tipo di fibre artificiale che avrà un'eccezionale diffusione soprattutto tra le classi popolari. Nel 1936 l'Italia è il primo produttore di fiocco a livello mondiale, con ben il 39% del prodotto totale. Negli anni del dopoguerra la fabbrica pavese raggiunge la sua massima espansione produttiva, arrivando ad impiegare fino a 2000 operai. Diciamo che questo era uno stabilimento di fibre artificiali. Cosa vuol dire fibre artificiali? Che le materie prime partono dalla cellulosa, cioè da materiali esistenti in natura. A differenza delle fibre sintetiche, che sono quelle che partono dalla sintesi. Due erano le produzioni che avevamo in questo stabilimento. Una era il rion e l'altra era il fiocco. La differenza tra i due è che il rion è una fibra continua. Cioè il risultato della fibra è un filo continuo che viene raccolto in bobine. Invece il fiocco è fibra corta, viene fatto sempre un filo continuo di grossa dimensione, poi viene tagliato in fiocchetti e poi va alla produzione tipo lana. Invece il fiocco è un filo continuo di grossa. La Snia reclutava molti lavoratori al sud, promettendo per tutti una buona retribuzione e una sistemazione abitativa. Appena arrivati gli operai alloggiavano in semplici baracchi di legno, proprio di fronte all'entrata della fabbrica in viadossi. Solo dopo un po' di tempo, con un po' di fortuna o magari con le conoscenze giuste, era possibile ottenere un alloggio nelle case della Snia, nel vicino quartiere di Santa Teresa. Le altre case di proprietà della Snia erano quelle di Via Maggi, dove le suore gestivano l'asilo per i bambini dei dipendenti e il convitto per le ragazze forestiere e quelle di viadossi. Qui non alloggiavano i semplici operai, ma capiturno, ingegneri, impiegati. Le condizioni di lavoro alla Snia viscosa di Pavia erano difficili. L'ambiente di lavoro era reso pericoloso dall'utilizzo di sostanze gravemente nocive per la salute. Il rischio principale, non solo all'interno dello stabilimento, ma anche nell'ambiente esterno, era rappresentato dal solfuro di carbonio. Altri rischi rilevanti venivano dalla presenza di sostanze come acido solforico, sodacaustica, piombo e dall'organizzazione del lavoro.